Perché dal paradiso è già pronto per farti saluti il grande Mike Ma stasera devo dire che sono veramente molto contento di fare gli auguri al grande Mario Mario, anche noi lo stiamo guardando qua da su, ecco pensate Ma io non sono da solo, perché qua in paradiso con me c'è anche Raimondo Vianello Ecco che sta ritigando naturalmente con Sandra Ecco Raimondo vuoi fare gli auguri? Sì, buonasera! Sì, uffa che barba! Sì, uffa che barba! Sì, sì, sei buono che... Sì, ho chiamato anche... Ho chiamato anche Corrado Oh, eh, signori e signore Buonasera da Corrado Oh, eh, eh, oh, eh, allora, oh, stasera mi collego con la terra dove c'è, oh, il mio amico Luca, oh, giurato Ma carissimi amici, carissimi amiche, buonasera dal vostro amico Luca Giurato, benissimo Ah, che bellissima serata, benissimo Carissimo Mauro, amico mio carissimo, ma non sono da solo Perché sono col mio grandissimo amico, l'onorevole professor Vittorio Sgarbo Se parliamo di arte in modo serio Capre, che sono capre, quelli che non sono venuti questa sera Per fare gli auguri a lui Non si fa più cultura Ieri sono entrato in una scuola Ho chiesto a un ragazzo che è il Manzoni Mi ha risposto il padre di quella vacca della Mazzotin Grazie Allora